Grave atto intimidatorio a Castrofilippo ai danni del sindaco, l'avvocato Calogero Sferrazza. Per il discorso, i gnoti hanno recapitato nella sede municipale una busta contenente tre proiettili di pistola calibro 7,65. È stato lo stesso primo cittadino a denunciare l'episodio ai carabinieri che hanno avviato le indagini. E intanto, molteplici, sono stati messaggi di solidarietà e sostegno indirizzati al sindaco Sferrazza. A stringersi intorno al sindaco sono stati in primis i suoi assessori e l'intero consiglio comunale del piccolo centro agrigentino. Per venerdì prossimo alle ore 19 è stata convocata una seduta straordinaria della pubblica sise cittadina a cui è stata invitata anche la deputazione agrigentina e tutte le forze politiche e sociali della provincia. Castrofilippo, si legge in una nota ufficiale del comune, non si fa intimorire e l'attività amministrativa non si ferma. Grazie. Grazie.